Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Reazione quest'oggi noterete un cambiamento radicale del format proprio perché ho deciso di rivoluzionarlo in virtù di varie cose che mi hanno portato a questa decisione in primis la qualità del video non solo per quanto riguarda la facecam per la quale ero costretto a mantenere una qualità bassa ma anche per quanto riguarda il contenuto in sé del video quindi insomma non vi spiego in che cosa consistono questi cambiamenti ve ne accorgerete all'interno del video stesso io vi invito comunque a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre questi format e sì ho ancora un po' di mal di gola quindi se sentite la voce strana è per quello e mi raccomando consigliatemi anche nei commenti altri video a cui fare varie reazioni e fatemi sapere ovviamente se questo cambiamento di stile vi piace oppure se preferivate quello vecchio anche se dubito che ci tornerò perché più che altro il video era proprio messo male a livello di qualità proprio del video cioè qualità grafica si vedeva tutto male perché purtroppo dovevo mettere dei parametri bassi se no mi esplodeva il computer quindi nulla io direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di iniziare subito con il video in questione che ovviamente trovate in descrizione se no sarebbe freebooting come al solito magari anche nelle schede ve lo metto voi andatelo a vedere fermo 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 fermi 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 troppe cose troppe cose allora perché sull'altare solare ci sono strisce di Lilia e Cosmog perché ci sono i capi palestra perché c'è Brock come capo palestra perché c'è una medaglia a forma di Bidouf perché Souling che una persona ha il cappello di Super Mario non lo so e la madonna sta cattiveria no dai 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 cos'è sta cosa cos'è sta cosa perché c'è sul galeo perché c'è sul galeo sdraiato e neanche fosse andato dai cinesi a fare i massaggi ma poi che campo di combattimento è ma ma cos'è sta merda ma dai ma non si può andare avanti così io vi sfido a fare come questo sul galeo e a correre sul posto ma ma corre proprio c'è nel senso proprio voglio voglio vedervi fare una roba del genere che è antinaturalistica cioè adesso non lo so adesso prendiamo il cane e vediamo se è in grado di farlo è un pokemon leggendario è un pokemon leggendario ve lo giuro vabbè proseguiamo proseguiamo come se non avessi visto nulla tu prima non c'eri tu prima non c'eri sono sicuro al 100% tu prima non c'eri perché ci sei adesso perché per 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 cos'è sta merda cosa sei perché 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 sligufuso d'Arceus ma ma per ma voi ve la immaginate una lumaca fusa a dio cioè immaginatevela figure out una lumaca fusa a dio la mia mente la mia mente la mia mente è andata insieme la mia mente è andata insieme perché è partita la musichetta di dragon ball quante canzoni basta 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 troppi troppi non c'ho capito un cazzo e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se è così mi invito come al solito a lasciare un bel mi piace un commento un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo stile di editing o comunque di questa rivoluzione del format e consigliatemi altri video a cui fare delle reazioni detto ciò ragazzi ah ovviamente ragazzi cioè ovviamente no però da adesso in poi potete anche consigliarmi video che non siano hack in quanto con questo nuovo modo di editare se lo manterrò potrei giocarmelo meglio anche su altri video detto ciò a nulla io spero che il video vi sia piaciuto passate dai social per rimanere sempre aggiornati mi raccomando ragazzi la pagina telegram e la pagina instagram scusatemi alla quale sicuramente non molti di voi sono sono seguaci e non lo so sto male non riesco a connetterle frasi ciao ciao Grazie a tutti